La battuglia è un suono adeguato a questa manifestazione e si svolge con botti, tini e falci. La botti viene percorsi con maglio, in lingua nostra mazzafune, poi tini che è cupella e viene percorsi con mazzette, poi ci stanno i falci con ferretti. Il capo battuglia è colui che va a dirigere il gruppo, dà con i gesti di mani e segni, gli ritmi sono tre, sono battuglia, pastellessa e tarantella. Battuglia quella là è adeguata come ritmo di base e funziona così. E come capo battuglia do i gesti per iniziare e dare uno stacco finale a questo ritmo, anche per poter cambiare il suono. E come dicevo prima, la pastellessa è un ritmo più indicato come un passo della morte. E passo a poco va così. Poi a seguito c'è questa tarantella e si assimilano alcuni canti nostrani e fa così. Qui In essi a questa qua vengono aggiunti ancora stacchetti e si chiamano i tre e fa così. Qui E con un continuo e poi si passa sulla battuglia di pastellessa. In essi a questa qua vengono aggiunti ancora stacchetti e si chiamano i tre e fa così. Qui